Voglio ricordare che è da due mesi che sto sollecitando il governo sulla terza dose. Noi siamo pronti, abbiamo 68 centri vaccinali, 1600 persone già schierate per le vaccinazioni, abbiamo un potenziale tranquillamente di almeno 50-55 mila vaccinazioni. Appena sarà autorizzata la terza dose noi passiamo alla vaccinazione. Mentre il presidente Luca Zaia parlava in questi termini di terza dose a Venezia, a margine dell'inaugurazione del restaurato Ponte di Rialto, il vice ministro Sileri annunciava l'intenzione del governo di partire con le persone più fragili. Inizieremo a fine mese con le persone immunocompetenti, a detto categorie, per le quali ad oggi studi scientifici dimostrano un calo dell'immunità offerta dai vaccini. Siamo molto preoccupati non solo per i fragili ma anche per tutti gli anziani dell'RSA, sono 30 mila e in generale gli over 60 che hanno bisogno di una terza dose. Governo e regione in tandem dunque sull'obiettivo di estendere l'immunizzazione inoculando una terza dose di vaccino, probabilmente entro dicembre. La regione è pronta, i vaccini ci sono, ha detto Zaia, e sulla possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale su luoghi di lavoro ha chiesto che ogni decisione del governo abbia una base scientifica. Ogni decisione poi sarà dettata anche da un'indicazione scientifica. Attendiamo di vedere quali saranno appunto le indicazioni del CTS come poi verranno declinate per la popolazione. Di certo è che la vaccinazione sta funzionando, l'80% delle persone ricoverate in terapia intensiva sono non vaccinate. L'ultimo passaggio è per il reddito di cittadinanza. I soldi vadano alle imprese, ha detto Zaia in una riflessione lucida quanto evidente. Solo loro le imprese possono aiutare a ridurre il tasso di disoccupazione. Diamo queste risorse agli imprenditori, gli imprenditori avranno l'obbligo di assumere coloro che non hanno modo di lavorare, ma queste risorse invece di darle a qualcuno a stare lì a guardare la tv è meglio darle alle imprese.